SPABA Costruzioni metalliche La nostra azienda vanta una notevole esperienza nella progettazione e costruzione di prefabbricati metallici, quali capannoni industriali e davicoli, coperture e tamponamenti perimetrali, scale per uscite d'emergenza, ponti carrabili e passerelle pedonabili, soppalchi. SPABA realizza cassoni scarrabili destinati a macchine agricole e per la raccolta differenziata. Siamo a Poncarale, Brescia, via Sorelle Girelli 51.